Oggi parlo della lotta spirituale contro il male. Innanzitutto Dio è più forte di ogni male, l'amore è più forte di ogni male ed è amando che noi possiamo scoffiggere il male. Noi possiamo permettere a Dio di agire in noi, di agire attraverso di noi per vincere il male. E Dio è desideroso di battersi come un leone al nostro fianco e ci dona, oltre a sé stesso, degli altri compagni di viaggio. Ci dona i santi e gli angeli nel cielo. Ci dona tutte le altre persone che possono combattere il male insieme a noi. E noi possiamo combattere il male insieme agli altri. Si parla di una vera e propria lotta spirituale. Dobbiamo impegnarci con tutte le nostre forze. Ed è una lotta di natura spirituale. Ci si batte per i doni dello spirito. Ci si batte per l'amore. Ci si batte per la gioia. Ci si batte per la sapienza. Per la libertà. Per la fedeltà. Per la speranza. Ci si batte per tutte le belle cose che Dio ci dà. Per le cose belle e buone che Dio ci dà. Poi ci sono degli utili consigli per portare avanti questa lotta. Chiaramente prima di ogni cosa dobbiamo affidarci pienamente a Dio. Poi ci sono degli strumenti che Dio ci dona. I sacramenti. In particolar modo voglio ricordare il sacramento della confessione dove possiamo incontrare la misericordia di Dio. pronta a lavarci dai peccati. Il sacramento dell'eucaristia. Il corpo e il sangue di Cristo sono offerti per noi. Perché noi possiamo amare. Dopodiché noi possiamo cercare di riflettere sulla parola di Dio di meditare la parola di Dio e di farla nostra, di viverla giorno dopo giorno. Possiamo cercare di essere testimoni con la nostra stessa vita della parola di Dio. Inoltre noi possiamo pregare possiamo rivolgerci a Dio per ringraziarlo dei doni che ci dà per chiedere gli aiuto, sostegno, consiglio. Possiamo pregarlo in tanti modi, in tutti i modi che Dio ci suggerisce. In particolar modo voglio ricordare il Padre Nostro, l'Ave Maria, il Credo, il Gloria. Poi possiamo cercare di sperimentare l'amore di Dio in tanti, tanti, tanti modi diversi. Possiamo, per esempio, sperimentare il digiuno dal male. Impegnarci nel digiuno dal male. Questo è il primo tipo di digiuno. Poi ci sono altre forme di digiuno che, se possibile, nei modi opportuni, possono essere portate avanti. un digiuno dalle cose materiali, ad esempio. Portate avanti in maniere particolari. Sempre a patto che sia volontà di Dio. Dopodiché possiamo perdonare gli altri. possiamo rimediare al male commesso nei limiti del possibile. Possiamo cercare di vivere la povertà evangelica. Insomma, ci sono tanti e tanti modi per cercare di lottare contro il male. E come dei guerrieri possiamo spiritualmente ergerci sapendo che al nostro fianco c'è Dio. Poi potrà capitare che in questa lotta contro il male si possa cadere, ecco. Si possa sperimentare nuovamente il peccato. però possiamo chiedere perdono e possiamo rialzarci con l'aiuto di Dio. Dobbiamo confidare in Dio e non disperare mai anche nei momenti più difficili. Ecco, lottiamo contro il male e impegniamoci ad amare. Ciao a tutti.